ciao ragazzi ciao ragazze oggi video spesa zucchero che avevo già aperto adesso io lo faccio a tirare su con la lingua al bruno zucchero dell'euro spine latte parzialmente scremato durata qua finisoglio già partito bene nel video grattugiato italiano 2 di Wuster cos'è suino puro suino poi ecco mario pescice questo grano saraceno biscotti con farina integrale grano saraceno poi penette rigate 10 minuti di cottura poi cereali biscotti queste sono le digestive tipo no tipo le digestive poi altro farfalle poi rigatoni 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 abbiamo mangiato rigatoni allora pesto senza aglio che poi aggiungiamo noi perché questo senza aglio non sa di nulla sale fino sale fino sale fino poi veniamo ai fagioli fagioli cannellini poi veniamo ancora ai ceci poi ci sono le lenticchie poi c'è ancora i fagioli cannellini poi c'è una scatoletta di polpa non era passata la polpa poi c'è questo qua che sono i pisellini poi ci sono i ceci secchi da fare i fagioli e per ultimo le penne rigate la spesa piccolina minuscola benissimo adesso penso che sia terminato per il momento è questa poi vediamo prossimamente dopo il 10 di febbraio cosa facciamo allora se vi è piaciuto il video mettete like iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella ciao al prossimo video